Siamo in piazza D'Alfonsine perché stiamo documentando una bella esperienza. D'Alfonsine è partita, D'Alfonsine è tornata, raccontaci dopo poi vedremo da vicino il tuo mezzo su due ruote che impresa hai compiuto. È un'impresa che è partita dall'aeroporto di Bologna il primo di aprile, mi ha portato fino a Madrid, con me ho caricato sulla bicicletta e una volta arrivato a Madrid dal 2 ho iniziato a pedalare tornando fino a D'Alfonsine. Ho attraversato subito la città di Saragozza, sempre in Spagna, poi mi sono avvicinato ai Pirenei, sono riuscito a passare oltre i Pirenei ad arrivare in Francia e una volta in Francia Carcassonne e poi la costa francese, quindi Marsiglia, Montpellier, Cannes, Monte Carlo, tutta quanta la Liguria. Perché nasce l'idea di fare un'esperienza di questo tipo? Innanzitutto non c'è paura muovendosi da solo o soltanto voglia di scoprire? Voglia di scoprire tanta, paura anche però vivendo D'Alfonsine sono sempre stato in mezzo alle campagne, in mezzo alla natura, fin da piccolo ne ho sempre approfittato, sono sempre uscito. Il tuo è un bel messaggio da lanciare ai giovani come te, più sport, più attività all'aperto e magari meno computer e meno internet. Tu magari fai entrambi. Sì, ovviamente il giusto sta nel mezzo, però assolutamente io spero che il messaggio sia passato. Io credo che dovremmo riscoprire un po' il rapporto che abbiamo forse un po' perso con la natura, uscire magari un po' di più di casa e soprattutto approfittare tanto dell'uso della bicicletta che è un mezzo che ti fa vedere il mondo un po' da un'altra prospettiva secondo me.